Un aspetto al combattimento di sì, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Per concludere l'analisi a prima di essere un'altra, la 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 prima di essere un'altra. Grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riuscito a ottenere una vittoria meritativa. Si chiude qui il nostro delegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella teletronica. È stato un onore, come sempre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.